Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Rischia ancora di più Lautaro Martinez e si fa buio, buio ma buio attorno a lui. Tutto grazie alla nuova Vanda Nara, la nuova compagna di Lautaro Martinez. Il suo vero nome non è questo, ve lo vado a leggere adesso, ma l'intervento che ha fatto proprio riguardo a questa situazione sembra un po' quelli che faceva la nostra vecchia biondona, la moglie di Mauro Icardi. Ma che cosa è successo? In realtà abbiamo anche le parole del giudice che ha condannato Lautaro Martinez e gli insulti da parte della famiglia Martinez proprio nei confronti della povera ragazza e della famiglia stessa. Andiamo a leggere tutto perché ci sono anche delle accuse che potrebbero portare, anzi dovrebbero portare ad una querela per diffamazione da parte dei due nei confronti della famiglia. Rispondo a Criscitiello e a tutti quelli come loro che hanno raccontato questa storia naturalmente come se Vanda Nara e il nostro Martinez fossero le parte lese, invece in realtà non è proprio così. Andiamo a vedere come sono andate le cose, ma prima leggiamo le parole della famiglia Martinez. Prima di partire con la lettura un like per supportare il video e condividete a manetta questo tipo di contenuto. Visto che stanno raccontando che Fagioli è la persona più cattiva del mondo, però questa porcata non la racconta nessuno. Ed è per questo che ci sono io caro amico mio merda azzurro che stai soffrendo a vedere il mio canale. Però lo sai fai un commento e poi verrai bannato, questa è la legge in questo canale. Qui si racconta la verità, non ci metto niente di mio, vi vado a leggere tutto parola per parola. Martinez condannato, Agustina e Lautaro infuriati con i parenti della Babysitter. Fate schifo profittatori, queste sono le parole. Dopo la notizia della condanna al risarcimento della Babysitter licenziata e ingiustamente da Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo, compagna del capitano dell'Inda, replica con toni aspri, fornendo via Instagram la sua versione, scagliandosi duramente contro i familiari della giovane. Ho deciso di restare in silenzio, dice lei, per tanto tempo per rispetto verso una famiglia che mai l'ho avuto nei nostri confronti, ma non permetto che possa infangare la mia di famiglia. Abbiamo assunto, dice lei, una persona che già era malata, amica da una vita intera. Attenzione a questa parola, amica da una vita intera. Fin quando purtroppo non ha più potuto lavorare perché la malattia glielo impediva. Dopo aver fatto tanto per lei e la sua famiglia, dice la principessa, facendoci noi carico dei biglietti per farli venire in Italia, mettere i letti vicini quando gli ospedali erano a collasso e aiutandola nelle cure, pensando all'alloggio per i suoi genitori, che abbiamo dovuto convincere a venire a prendersi cura della figlia che stava morendo. Mamma mia, che storia. C'è proprio due benefattori. Ricordiamo, amica di una vita. E poi dopo ti rinfacciano che gli hai fatto i biglietti, che per te costano come per me 20 centesimi per una caramella mia figlia. E questo è già, è già ci fa pensare a qualcosa. Mettono le mani avanti per venirci a raccontare un qualcosa. Ma arrivano adesso le diffamazioni, le parole diffamatorie dette da questa ragazza, che mette nei guai Lautaro Martinez. Perché se solo questa famiglia, come ha già fatto, continua a correlare, e allora mi sa che in tribunale ci passerà tutto il 2023, se non anche il 2024. Andiamo avanti con la lettura e poi vi leggerò anche le parole del giudice che ha condannato e il motivo della condanna. La Gandolfo prosegue con toni ancora più infuocati. Dopo aver dato tutto, loro hanno aspettato che la figlia fosse al punto di morire e non fosse più lucida per tentare di prenderci dei soldi, approfittando della situazione e non solo. Anche dopo la dipartita della figlia hanno continuato ad insistere, ma è andata male e non poteva essere altrimenti. Quindi hanno provato ancora a prendere dei soldi. Spero che tu abbia delle prove, degli whatsapp o dei video che lo testimoniano perché questa è diffamazione e quindi si va sul penale e non più sul civile. Poi prosegue dopo l'ammissione della sentenza, dove non hanno potuto scucirci un euro perché tutto non corrispondeva al vero, scusate, veramente siete stati condannati a pagare 15 mensilità, comunque, perché noi, il nostro, dice lei, grande aiuto, lo abbiamo dato quando dovevamo. Fanno questo per infangarci? Che razza di persona bisogna essere per cercare di spillare soldi approfittando della morte di un figlio? Domanda la principessa. Mi fate schifo e andate a lavorare, lo dice lei, che ha lavorato tantissimo, almeno lo dice con la bocca, quindi avrà lavorato. Conclude poi citando direttamente i cognomi dei destinatari delle sue parole. Il post è stato poi condiviso dallo stesso Lautaro Merdinez e così facendo il caro Lautaro Merdinez potrebbe incorrere ad una querela per diffamazione. Non solo è stata licenziata una ragazza che era gravemente malata, ma la raccontano pure a modo loro. Caro Criscitiello, tu puoi prendere in giro sì e no quattro pagliacci che ti seguono, quattro, ma se uno legge un pochettino di articoli da giornali differenti e allora si rende conto che una volta hai dovuto, hai voluto criticare per la questione Sarmazic l'Inter e il giorno dopo hai chiesto scusa davanti alle telecamere dicendo che voi non volevate criticare l'Inter, che l'avete sempre trattata con i guanti gialli e quindi tu non sei degno di poter parlare di storie reali perché sei di parte. Punto, almeno io lo dico, io sono giuventino, sono di parte, ma leggo le vostre notizie. Poi giustamente gli do l'interpretazione giusta perché voi cambiate il significato delle parole. Adesso andiamo a leggere il motivo per cui Lautaro Merdinez è stato condannato. La ragazza ha vissuto come un'ingiustizia il comportamento avuto nei suoi confronti del suo ex datore di lavoro e pertanto si è rivolta ad uno studio legale affinché tutelasse i suoi interessi. Dopo diversi tentativi di chiudere bonariamente la questione, respinti dai legali del cacciatore, la vicenda è finita davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano. Quindi, visto che erano tanto amiche, tanto amiche di una vita, che i legali della ragazza hanno contattato i legali delle due povere vittime, perché ormai sono povere vittime, secondo Cricitello, ma i legali non hanno voluto sapere nulla, sono dovuti andare fino in Tribunale. La ragazza fino a quel momento non era morta, quindi era lei che richiedeva di essere assistita e non i genitori. Ci siamo? Andiamo avanti perché veramente c'è del ridere. Tribunale proprio di Milano che oggi ha emesso la sentenza con la quale ha deciso l'illegittimo il licenziamento in quanto il periodo... Mamma mia, mi vengono i brividi a leggere che una persona abbia perso il posto di lavoro per questo. Il periodo di comporto non è stato correttamente calcolato ed è stata licenziata dopo 49 giorni di assenza e non dopo i 67,5, come invece prevedeva il calcolo corretto da contratto naturalmente. Condannato quindi Lautaro Martinez al pagamento delle spese legali e al versamento di una somma pari ai 15 mensilità a titolo di risarcimento a favore degli eredi della giovane donna scomparsa proprio a causa di quella malattia oncologica per la quale è stata licenziata dall'argentino lo scorso gennaio. Questa è la verità, caro il mio amico Criscipiello. Piscitiello, questa è la verità. Se erano tante amiche, tu non mi licenzi perché sto facendo delle assenze perché è una malattia che mi sta portando a morire. Loro hanno portato questa famiglia dall'argentina perché gli costava molto meno prendere una babysitter in Italia che te ne chiede, visto che sa che sei un calciatore, 50 di euro l'ora. Fatemi vedere la busta paga della signorina. Vogliamo vedere la busta paga della signorina e ci rendiamo conto se è vero o no che i profittatori sono loro o siete voi. Se siete arrivati fino a questo punto siete dei supereroi. e naturalmente io ci tenevo a dare la risposta a Criscitiello perché l'hanno raccontata così bene che anche sul mio canale sono venuti alcuni Piscitielli a raccontarmi che io dicevo bugie perché la verità era tutta un altro. Ve l'ho letta, la loro verità l'ho messa a confronto con la verità reale. Cozzano di brutto. Un amico da una vita non lo licenzo se si ammala perché mi fa 49 giorni di malattia. Soprattutto se sono ricco sfondato. Detto questo il video finisce qua, se sei arrivato fino a qui sei un supereroe non ti rimane che condividi, anzi prima mettere un bel like e poi commentare con il tuo pensiero perché è molto importante condividi questo video per farlo sentire a tutti come stanno andando le cose caro Piscitiello e se non sei ancora iscritto al canale clicca quel pulsantino totalmente gratuito ve lo dico tutte le volte, la prossima volta vi mando un bonifico così almeno lo fa il pi e se volete, naturalmente dopo aver attivato la campanellina per rimanere sempre aggiornati mi potete contattare e messaggiare in privato su Instagram cercatemi come Peter underscore Pan underscore Bianco Nero lì mi potete trovare, tanti di voi già lo stanno facendo per questo vi ringrazio di cuore, un saluto a tutti e ciao a io!